Salvini vuole un sindaco leghista a Napoli, lei lo considera uno scenario possibile? Possibile nella sua testa sì, impossibile nella sua realizzazione sì. Sindaco, sul movimento delle sardine, finora non si è ancora esperse? Io non è che mi devo esprimere perché nel senso devo essere un osservatore, un ascoltatore, una persona che ha sempre apprezzato i movimenti se caratterizzati da idee, passione, spontaneismo e autonomia. Quindi credo che sia un fenomeno interessante, ovviamente mi auguro che rimanga un movimento così bello, spontaneo, di testa, di cuore, di partecipazione e non ci sia qualcuno che ci voglia mettere in qualche modo il cappello sopra. Quindi credo che così come li sto vedendo e li ho visti mi sembra qualcosa di interessante, di curioso, è un segno di vivacità all'interno del nostro paese. Forse è un segno anche di... Forse è un segno anche di ascoltare e osservare. Non lo so, vediamo. Ma io, come dire, in questi casi non li annuncio, le mie cose, perché io sono uno che rispetta molto e so anche quanto può essere ingombrante la presenza di una persona che ricopre un ruolo, come sono io sindaco di Napoli e anche una persona che fa politica a livello nazionale. Quindi io guardo con attenzione, osservo e se dovessi decidere di partecipare non lo annuncerò, ovviamente. Sarò uno tra i tanti e non sarò Luigi De Magistris e sindaco di Napoli, se questo ha un senso. Quindi non ha proprio importanza se io partecipo o non partecipo. Io mi auguro che questo sia un movimento che abbia le caratteristiche di mettere in campo una partecipazione civica importante e il fatto che si caratterizzi per essere un movimento che si oppone alle derive del rancore e che canti Bella Ciao, mi sembrano delle cose come dire che vanno in linea con quello che oltre che nelle piazze stiamo facendo governando. Perché poi vorrei sempre ricordare che l'esperienza di Luigi De Magistris è un'esperienza rivoluzionaria nelle parole e nei fatti, perché la rivoluzione con le parole e con i comizi sono necessarie. Poi c'è la rivoluzione del governo che è quello di prendere decisioni molto difficili usando l'arma del diritto. E qua molti rivoluzionari a parole hanno tradito nel corso degli anni, ricordiamoci anche come sono nati molti movimenti. Faccio solo un esempio e chiudo che differenza enorme ci sarà tra i meet up e il Movimento 5 Stelle di oggi. I meet up erano un movimento che riempiva i gazebbo, riempiva le piazze, riempiva i luoghi di battaglia a difesa dell'ambiente. Adesso se guardiamo le politiche del Movimento 5 Stelle al governo mi sembra che ci sia un oceano tra i meet up e il Movimento 5 Stelle. Quindi saper coniugare rivoluzione e affidabilità di governo e capacità di governo è una delle grandi sfide ai nostri tempi.